Buongiorno e benvenuti a questa edizione di Focus Tg, come sempre trascorreremo un'ora e mezza in diretta assieme per informarvi di tutte le notizie che si sono verificate che si stanno verificando in Veneto con vari collegamenti da tutte le province della regione. Apriamo questa edizione raccontandovi una storia che arriva dalla periferia di Verona perché un'anziana è stata trovata morta in casa, era morta da almeno 5 anni. Durante questo periodo di tempo il figlio sessantenne, che adesso è irreperibile, che abitava con lei, ha continuato a percepire la pensione della madre. In quel letto ormai di lei c'erano soltanto i resti mummificati, la prima stima del medico legale che si è morta almeno 5 anni fa. Cause naturali o meno è presto per stabilirlo, così come sono tanti gli interrogativi di questa storia dell'orrore che va in scena in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina di Borgo Milano, periferia di Verona. I resti sono quelli di un'ottantenne che lì risiedeva assieme al figlio sessantenne. Quest'ultimo irreperibile dopo che in tutto questo tempo ha continuato a percepire la pensione della madre morta. Il corpo è stato trovato nel tardo pomeriggio di ieri dalla polizia locale e dai vigili del fuoco di Verona. L'intervento dopo alcune segnalazioni dei residenti e vicini che da troppo tempo non vedevano la signora. Dopo aver forzato l'ingresso, l'orripilante scoperta dei resti sul letto è una rida di domande alle quali solo il figlio dovrà dare risposte. Com'è morta la donna e com'è possibile che quel corpo sia rimasto sul letto per così tanto tempo? Possibile che nessuno si sia mai accorto di nulla? L'indagine è appena iniziata e il primo tassello del macabro puzzle sarà quello di rintracciare l'uomo e bloccarlo. Ci spostiamo ora nel Veneziano. Questa notte attorno alle 22.45 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Circonvallazione a Maerne di Martellago per l'incendio di un trasformatore a olio all'interno di un'azienda di lavorazioni polveri metalli che nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri accorsi da maestre con i volontari di Mirano hanno utilizzato due autopompe, due autobotti, il carro nucleare biologico chimico radiologico, l'autoscale 16 operatori. Leggermente danneggiato il tetto del capannone, le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici, dei vigili del fuoco e dell'azienda. Le operazioni dei pompieri di completo spegnimento e messe in sicurezza dell'azienda sono terminate alle 3 di questa notte. E ora parliamo di un'altra aggressione a un medico. Questa volta andiamo a Padova e ci sarà il rito abbreviato per l'anziano che nel 2022 accoltelò una dottoressa dello Iov all'86enne e è stato riconosciuto un parziale vizio di mente. Accoltelò la dottoressa dello Iov che l'aveva appena seguito nella sua terapia antalgica. L'anziano padovano, autore dell'aggressione avvenuta nel novembre del 2022 a Padova, è stato condannato con rito abbreviato a 3 anni e 2 mesi di reclusione per tentato omicidio. Il giudice alla fine ha riconosciuto il vizio parziale di mente e quindi l'anziano non andrà in carcere. La dottoressa, ferita alla mano e alla gola, si era salvata difendendosi. Si è costituita parte civile ed è stata risarcita con 50.000 euro. Quel giorno di novembre l'anziano paziente era andato all'Istituto Oncologico Veneto per la consueta seduta di terapia antalgica per alleviare i forti dolori causati da una neoplasia. All'improvviso ha gritto alla dottoressa con un coltello da cucina portato da casa. L'uomo in precedenza non aveva mai mostrato segni di aggressività o violenza nei confronti della terapeuta. È stato bloccato in tempo dagli altri medici e infermieri che erano stati richiamati dalle urla della dottoressa che era riuscita a parare i colpi potenzialmente mortali. L'anziano venne fermato fino all'arrivo della polizia. Dopo la condanna il giudice ha combinato la pena con la libertà vigilata per un anno e l'obbligo di frequentare un centro di salute mentale. Era stato fermato ieri dai carabinieri sempre a Padova un tunisino di 42 anni che stava camminando per strada con un coltello in mano provocando un comprensibile allarme tra i passanti. È stato denunciato. Lo hanno notato alcuni passanti camminare lungo via Plebiscito a Padova impugnando un lungo coltello e hanno subito chiamato la centrale operativa del 112. Una pattuglia dei carabinieri è intervenuta nell'arteria nord della città trovando un 42enne originario della Tunisia con in mano un coltello da cucina con una lama lunga 34 centimetri. Con la dovuta cautela l'hanno avvicinato e si sono fatti consegnare l'arma. L'uomo è stato quindi accompagnato in caserma dove ha fornito un nome falso smentito dagli accertamenti. Il 42enne, irregolare in Italia e con precedenti, è stato quindi denunciato in stato di libertà per porto ingiustificato di armi e false attestazioni sull'identità. Ed ora da Padova ci trasferiamo a Venezia dove in collegamento in diretta Ilaria Marchiori con Sandro Ponchio dallo UUAV dove oggi c'è un ospite d'eccezione, vero Ilaria? Sì, buongiorno Filippo, buongiorno ai nostri telespettatori. Proprio come hai detto tu, oggi c'è la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che è stata ricevuta, prima di recarsi qui nell'aula magna dello UUAV, come hai anticipato, dal Sindaco Brugnaro insieme anche alla Commissaria per la Coesione e le Riforme, Elisa Ferreira. Infatti non so se sia possibile far vedere le immagini che dopo questo incontro la Presidente della Commissione Europea è proprio salita in gondola, ha fatto un giro lungo il Canal Grande insieme al Sindaco Luigi Brugnaro. E dopodiché è arrivata qui, dove si sta ancora svolgendo, è tuttora in corso, un incontro per discutere del cambiamento climatico soprattutto, e poi si recherà in visita alla Biennale dove incontrerà la curatrice della Biennale di Architettura. Venezia ha scritto subito sui social è una meraviglia del mondo, ma questo gioiello del patrimonio europeo è minacciato dal cambiamento climatico. Possiamo agire e preservarlo, ha scritto. Il nuovo Bauhaus europeo ci sta mostrando la strada, questo è ciò di cui sono qui per discutere proprio alla Biennale. Inaspettatamente qui all'esterno non c'è nessuno, ci si aspettava potessero esserci alcuni dissidenti, insomma qualcuno per protestare. In realtà è tutto molto tranquillo, si sta svolgendo tutto in perfetto ordine qui nell'Aula Magna dello Juav a Venezia. C'è presente ovviamente anche il sindaco Brugnaro con cui la Presidente della Commissione europea si è recata a fare questo giro in gondola e ha incontrato precedentemente a Caffarsetti, c'è anche il Presidente dell'autorità portuale Fulvio Lino di Blasio, c'è anche Brunetta per cui insomma piano piano poi scenderanno e forse riusciremo anche a intercettarli sempre che non debbano scappare via appunto perché la Von der Leyen si reccherà come ho detto in visita alla Biennale. Altre affermazioni che ha fatto che riguardano l'ambiente, in particolare Venezia, il danno causato dall'uomo ha detto è particolarmente tangibile qui, possiamo evitare lo scenario peggiore ma tutto dipende dalla nostra velocità d'azione. Ridurre le emissioni degli edifici è cruciale, ha continuato per conseguire la neutralità climatica e rallentare l'innalzamento del livello del mare. Per noi il concetto di solidità si traduce in sostenibilità. Palladio riteneva che gli edifici dovessero resistere alla prova del tempo, gli edifici, a concluso, supereranno tale prova solo se saranno sostenibili. Dunque la parola ancora una volta è sostenibilità. Noi nel frattempo rimaniamo qui, continuiamo a seguire quello che accadrà in mattinata e qui da Venezia restituisco la linea allo studio. Grazie, grazie Ilaria Marchiori e a Sandro Ponchio in collegamento in diretta dallo IUAV, la Facoltà dell'Università di Architettura di Venezia dove è in visita in questo momento la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Noi continuiamo con la cronaca, ci spostiamo nel Vicentino a Dueville dove un automobilista è stato colto da malore mentre si trovava alla guida ed è stato soccorso dai carabinieri. Vediamo. A Dueville, un uomo di 51 anni alla guida della propria vettura in viaggio lungo strada a Marosticana è stato colto da malore improvviso verso le 8 del mattino nella frazione di Povolaro. È riuscito a malapena a controllare il mezzo ad accostare il bordo strada. All'auto che però ancora intracciava il traffico si sono accostati alcuni passanti, una donna girando le braccia è riuscita a richiamare l'attenzione di una gazzella dei carabinieri della radiomobile providenzialmente in pattuglia in quel momento. I militari, accertata la presenza dell'uomo sofferente che lamentava forti dolori al torace, per accelerare i soccorsi hanno scortato direttamente l'auto con a bordo il 51enne fino all'ospedale di Vicenza. L'uomo trasportato dai carabinieri in carrozzina fino al pronto soccorso è rimasto in osservazione al nosocomio. I controlli della Guardia di Finanza nelle attività commerciali del Padovano sono fioccate multe e anche sospensioni ad alcuni locali che avevano dei lavoratori irregolari. 15 lavoratori irregolari scoperti durante il mese di maggio dalla Guardia di Finanza di Padova durante i controlli nelle attività commerciali soprattutto quelle nell'ambito della ristorazione come barre locali che nei mesi primaverili ed estivi utilizzano più mano d'opera per la gestione delle attività. In totale sono stati trovati 9 lavoratori in nero e 6 assunti con un contratto di lavoro a chiamata senza la comunicazione d'inizio della prestazione lavorativa a cura del datore. Le attività in cui sono state riscontrate le irregolarità rischiano ora sanzioni comprese tra un minimo di oltre 28 mila euro e un massimo di 118 mila euro e in due cadi anche il provvedimento di sospensione. Allora ci colleghiamo in diretta con Christian Arboit e da Treviso parliamo della storia di Annika la donna che è stata ritrovata morta nel Piave perché ora si indaga per omicidio. Ci dice tutto Christian Arboit. Sì, grazie per la linea anche da parte di Simone Merlo che sta curando la parte tecnica. Ci troviamo ancora una volta all'esterno del Palazzo di Giustizia di Treviso dove non passa giorno, non passa ora in verità che non ci siano dei dettagli sulla morte di Annika Panfile la trentunenne trovata morta domenica sul greto del Piave. Inizialmente, lo sapete, si pensava ad un suicidio purtroppo come tanti in realtà nel corso dei giorni ha preso forma e consistenza l'ipotesi di un omicidio volontario. Ieri sera nel corso del nostro telegiornale vi abbiamo parlato per l'appunto dell'ipotesi dell'apertura di un fascicolo per omicidio volontario. Ebbene, quella ipotesi nel corso della notte è diventata realtà, è ufficiale, dunque c'è un fascicolo per omicidio volontario proprio per fare luce sugli ultimi istanti di vita sulle ultime ore di Annika. E c'è un dettaglio che sta emergendo in maniera forte ovvero che tra le persone sentite in questi giorni dai carabinieri, dagli inquirenti ci sia anche, c'è Franco Battaggia un nome che sicuramente a voi telespettatori dirà molto perché per anni, per decenni è stato la primula rossa della marca accusato e condannato nel 1988 per l'omicidio di un uomo. Fu una vicenda che fece molto discutere Battaggia, si diede alla fuga prima in Ecuador, poi in Svizzera. Oggi vive e lavora a Spresiano, tra Spresiano e Arcade. Ebbene, la 31enne faceva le pulizie a casa sua quindi anche Battaggia è stato sentito in questi giorni così come tanti conoscenti e amici della donna nonché familiari e non potrebbe essere altrimenti. Quindi questa è la situazione al momento. Tra l'altro, tra l'altro, e adesso lo sentirete il capo procuratore Marco Martani non se la sente di escludere che ci siano più persone coinvolte in questo possibile omicidio volontario. In questo momento, chiaro, devono prevalere i condizionali il condizionale d'obbligo, come si dice però è anche innegabile che in questi giorni l'ipotesi del suicidio sia stata smontata pezzo per pezzo, giorno dopo giorno. Allora, nel salutarvi con Simone Merlo lancio questa intervista realizzata poco fa al capo procuratore Martani. Si indaga senza sosta su questa morte è sempre più sospetta, è sempre meno un suicidio. Sì, ma l'ipotesi del suicidio ha perso consistenza, è molto improbabile. Quindi stiamo accertando le ipotesi alternative e la prima delle quali è quella dell'omicidio. Un omicidio che potrebbe essere andato anche oltre le intenzioni. Questo è presto per dirlo, perché in primo momento prima bisogna cercare di scoprire se omicidio è stato, chi lo ha commesso e poi in quali circostanze e per quali motivi. Sul chi l'ha commesso voi state sentendo diverse persone. E tra questi nomi sentiti, sottolineiamo questo, c'è anche un nome molto noto sulla piazza Trevigiana e Veneta, quello di Franco Battaggia. Non posso fare delle dichiarazioni sulle persone sentite e sulle loro dichiarazioni. Sono state sentite tutte le persone che ci è risultato avessero rapporti di frequentazione abituale e di lavoro anche occasionale con la donna. Quindi se le chiedo è stato sentito Battaggia e lei mi dice Sione. Non posso confermare né smentire. E senta, dottore, in questo momento non ci sono comunque persone nel registro dell'indagato? Anche su questo non posso né confermare né smentire. Le iscrizioni nel registro degli indagati non sono pubblicabili fino a quando non sono note all'interessato. Comunque il fascicolo per omicidio volontario è aperto a questo punto? A questo punto sì. Abbiamo aperto l'ipotesi quella di omicidio volontario. Quindi ieri era un'ipotesi di apertura adesso è stato aperto in quest'euro. Sì, valutato tutto, riteniamo che sia ragionevole ipotizzare un omicidio volontario. Un omicidio volontario di una madre e di quattro figli che rende la cosa ancora più orrenda per certi versi? Sicuramente. Senta, dottore, voi adesso come vi state muovendo? In questo sarà un weekend di indagini per tutte le forze coinvolte? Continuano gli accertamenti, diciamo così, a 360 gradi sulle frequentazioni della donna e sugli ultimi movimenti che ha avuto. Da questo punto di vista potranno aiutare i mitabulati del telefono che pure sono stati chiesti anche se il telefono non è stato rinvenuto e una visione delle telecamere, delle zone in cui la donna è passata o potrebbe essere passata. Anche per capire se ci sono più persone coinvolte anche perché se il corpo è stato portato forse servivano più persone. Queste sono solo ipotesi. Queste dunque le ultime novità sulle indagini sulla morte della 31enne che è stata ritrovata poi sul Piave. Come avete sentito, si è aperto un fascicolo per omicidio volontario. Naturalmente ringraziamo Christian Arboite e ci collegheremo nuovamente in diretta se ci fossero delle novità dell'ultimo minuto. Ora parliamo di un altro processo, il processo per l'omicidio di Mattia Caruso, il giovane ucciso con una coltellata al cuore a Montegrotto Terme. In aula è comparsa la fidanzata, rea confessa del delitto che andrà a processo. La prima udienza si terrà il 21 di giugno. Io ho piena fede, noi abbiamo piena fede. L'hanno guardata negli occhi la mamma e la sorella di Mattia Caruso, Valentina Boscaro, la giovane donna di 31 anni, rea confessa dell'uccisione del fidanzato. dopo aver tentato di depistare i carabinieri, il PM incaricato delle indagini sulla morte di Mattia, ucciso la notte dello scorso 25 settembre con una coltellata al cuore, dopo aver trascorso la serata ai laghi di Sant'Antonio a Montegrotto Terme, la giovane donna, agli arresti domiciliari perché mamma di una bambina piccola, ha confessato il delitto. In queste ore, Valentina Boscaro è comparsa in tribunale a Padova davanti al giudice per le indagini preliminari che ha deciso il processo fissando la prima udienza per il 21 giugno. Su di lei avevano da subito puntato il dito i familiari di Mattia Caruso. Conoscevamo il rapporto che c'era siccome c'era Padova 2. Conoscevamo per fortuna bene, ma non troppo bene lei. L'accusa di cui deve rispondere Valentina Boscaro, amicidio volontario aggravato, un reato che può essere punito anche con l'Ergastorum. E ora ci spostiamo a Correzzola dove è stato scoperto un 61enne che viveva in una villa di lusso e aveva ampie disponibilità di denaro ma dichiarava redditi quasi nulli. A scoprirlo, un'operazione congiunta di polizia e di guardia di finanza. Una villa di pregio da 200 metri quadrati con annesso deposito di oltre 130 metri, un ampio scoperto di 1.500, oltre a un'auto e a una moto d'epoca. A tanto ammontano i beni mobili sequestrati sulla base di un decreto emesso dal Tribunale di Venezia sul proposto del questore di Padova a un 61enne. Una misura nata grazie a un'indagine condotta dagli agenti della divisione anticrimine della Polizia di Padova e dal nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza che hanno incrociato le proprietà del 61enne con i dati riconducibili e i suoi redditi pressoché nulli nell'ultimo decennio. L'uomo, che ha numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato ritenuto quindi socialmente pericoloso ed è scattata la confisca sulla base del codice antimafia. Questo tipo di iniziative secondo me realizzano per così dire la giustizia perché si tratta di persone che comunque si sono arricchite a danno di altre evidentemente e che sono state defraudate dei loro beni che hanno subito delle conseguenze delle pressioni delle violenze e dobbiamo essere soddisfatti e contenti perché come dicevo è come se avessimo contribuito a rendere giustizia. Le indagini avevano permesso di ricostruire le fasi di acquisto della villa passate attraverso il versamento di contanti su conti correnti intestati di una terza persona che aveva emesso poi vagli apostali usati dalla sorella del 61enne all'epoca dei fatti appena diciottenne per formalizzare poi la compravendita. La sorella avrebbe poi ceduto il bene al fratello. Nella villa sono state anche sequestrate preziose monete antiche che erano state rubate e sono state restituite ai legittimi proprietari. Per il 61enne è scattata anche la misura di obbligo di soggiorno nel comune di residenza per i prossimi tre anni. E ora ci spostiamo sull'altopiano di Asiago ieri un incendio ha bruciato un negozio di souvenir oggi il giorno dopo questo tragico evento al nostro microfono il titolare del negozio. Siamo tutti spaventati anche perché tutto quel fumo più che altro siamo tutti spaventati sì. Un muro di fumo e tanta paura ha temuto il peggio Carlo Rigoni titolare dello storico negozio di souvenir il Cantuccio lungo via 4 novembre ad Asiago fiamme divampate forse a causa di un cortocircuito dai locali sotterranei dello scantinato adibiti a magazzino del negozio. Ero qui in centro mia moglie mi ha chiamato perché c'era del fumo sulle scale sono arrivato a casa di cosa mi ha chiamato i vigili del fuoco sono arrivati abbastanza in fretta per fortuna non hanno usato dell'acqua per spegnere questo principio di incendio abbiamo un po' tutto affumicato sia il negozio che il magazzino insomma ecco adesso stiamo portando via tutto souvenir di legno stoffa e carta oggettistica facilmente infiammabile completamente bruciata o intaccata dal fumo i danni oltre agli articoli conservati alla parte sotterranea del negozio anche nel piano superiore completamente invaso dal fumo le cause del rogo rimangono al vaglio della squadra dei pompieri intervenuta sul posto un negozio quello della famiglia Rigoni che porta con sé cento anni di storia uno dei più antichi dell'altopiano e che ora deve fare i conti con una nuova ripartenza è un negozio storico sì centenario sì adesso stiamo svuotando il negozio guardi con il furgone stiamo portando via tutto per sanificare i locali oggi la pandemia è terminata definitivamente ma la vita a Vicenza per tre anni è rimasta in sospeso di fronte a un dramma sanitario che oggi non può essere dimenticato il Nursin del sindacato degli infermieri traccia un bilancio ancora un istante e vediamo il servizio che ci arriva dalla nostra redazione di Vicenza sul bilancio da parte del sindacato degli infermieri di questi tre anni di pandemia eccolo tre anni di pandemia tre anni che hanno lasciato una cicatrice profonda che non potrà mai più rimarginarsi morti ospedali pieni strade vuote lockdown le distanze la vita che resta in sospeso anche Vicenza si è fermata come tutto il resto del mondo tre anni persi o perlomeno guadagnati in esperienza perché quello che è accaduto non ricapiti mai più in prima linea medici e infermieri ma anche gli amministratori locali del Vicentino usciamo da una pandemia che nel Vicentino è stata molto pesante come in altre province del Veneto devo dire che il contributo in termini voglio dire di assistenza ai cittadini e il contributo in termini anche di assistenza ai sanitari nel momento peggiore devo dire che nessuno si è risparmiato tanto meno il comune di Vicenza il comune di Vicenza ha dovuto affrontare l'incognita di una pandemia mai vissuta prima diventando il punto di riferimento per tanti cittadini che avevano bisogno di risposte di aiuti anche concreti quotidiani in un'epoca di lockdown in cui c'erano da gestire tantissimi problemi da quelli più complessi a quelli più banali ricordo bene insomma gli amministratori locali che sono entrati in ospedale in un momento in cui nessuno avrebbe voluto entrare in ospedale anzi la gente restava molto alla larga e aveva paura ho visto un'amministrazione che ha portato il suo contributo concreto con le persone quindi più amministratori locali che sono venuti a sentire e a vedere di cosa avevamo bisogno e hanno lavorato per farci avere materiale supporto e insomma è stata una una visione importante della politica verso la sanità importantissima anche la gestione della pandemia da un punto di vista della diagnosi precoce con l'apertura a Vicenza del centro tamponi devo dire che è stata una grande intuizione all'epoca del nostro direttore generale insieme all'amministrazione comunale ad aprire in un paio di giorni il padiglione della fiera quella è stata la svolta sulla gestione della pandemia da un punto di vista delle diagnosi e quindi anche delle diagnosi precoci un caso di tubercolosi alle scuole medie di Vicenza siamo naturalmente in provincia di Padova lo studente è stato ricoverato per accertamenti ma in buone condizioni immediatamente è scattato il protocollo regionale previsto lunedì l'Ulss 6 Eugania incontrerà i genitori dei ragazzi individuati come contatti stretti l'allarme è scattato mercoledì con la conferma di un caso di tubercolosi in uno studente della scuola media Don Lorenzo Milani di Vigonza il ragazzo è ricoverato in ospedale dove è sottoposto alle cure e agli accertamenti del caso ma in buone condizioni nel frattempo come prevede il protocollo di sorveglianza delineato dalla regione Veneto l'Ulss 6 Eugania ha fatto scattare le misure di prevenzione con avviso al comune e alla scuola il primo passaggio è l'identificazione dei cosiddetti contatti stretti in questo caso come negli altri casi sono i familiari sono le persone con cui si passa la maggior parte del tempo in questo caso è uno studente quindi ovviamente il contesto scolastico la sua classe fa dopo scuola anche dopo scuola e per un ragazzino diciamo l'attività sociale se c'è l'attività sportiva eccetera si va a indagare quali sono i contatti stretti a scuola lunedì prossimo 29 maggio i sanitari dell'Ulss 6 incontreranno i genitori degli studenti individuati come contatti stretti del ragazzo contagiato sui contatti stretti bisogna fare un piccolo diciamo esame cutaneo si chiama mantù che nell'arco di 48-72 ore dimostra se c'è stata un'infezione un arrossamento diciamo un alone rosso e questo identifica le persone sono state esposte in questo caso a un microorganismo infettate non vuol dire ammalato lo chiariamo subito precisamente però è un soggetto su cui fare ulteriori accertamenti le persone in questo caso i ragazzini che invece sono negativi al test vengono ritestati dopo un paio di mesi 8 settimane la lettura del test verrà fatta il primo giugno data entro la quale sarà chiaro il quadro della situazione una malattia infettiva la tubercolosi che in Italia ha un'incidenza più bassa rispetto al passato ma è ancora diffusa in varie zone rurali del mondo in questo momento ne stiamo seguendo due abbiamo anche un caso adulto e quindi in questo caso l'accertamento nel contesto lavorativo familiare e delle relazioni sociali in maniera più o meno con la stessa modalità che ho descritto e a Padova invece è stato assolto per non aver commesso il fatto un 48enne di origine torinese accusato di aver esploso tre colpi di fucile da caccia di un fucile da caccia caricato a Pallini contro il ristorante Casana nel gennaio del 2018 l'uomo era stato indagato lo scorso maggio dopo essere stato arrestato per il reato di evasione in seguito ad una rapina era stato rinviato a giudizio ma ora è stato assolto e quindi la storia degli spari al ristorante di via Martiri Sebastiano e Fabiano a Padova rimane un mistero a Vicenza invece si sono intensificati i controlli sui parcheggiatori abusivi nella zona dell'ospedale di San Bortolo uno straniero irregolare in Italia è stato espulso lotta ai parcheggiatori abusivi che gravitano in zona ospedale creando fastidi e disagio ai cittadini che devono entrare al San Bortolo la squadra volanti ha intensificato i controlli e nella giornata di ieri sono stati individuati e allontanati sette soggetti che chiedevano con insistenza denaro a chi era intento a parcheggiare tra loro un cittadino indiano di 40 anni irregolare in Italia il questore ha emesso a suo carico un ordine di allontanamento dal territorio nazionale continuano i disagi della statale Valsugana traffico in tilt a causa dei lavori lungo il tratto tra Romano Dezzelino e Pove del Grappa tantissime le segnalazioni che sono arrivate alla nostra redazione di Bassano come quella della signora Milva da Solagna venga a vedere venga a vedere se renderà conto di cosa c'è e noi di Rete Veneta a vedere ci siamo andati una strada Valsugana ancora una volta paralizzata 40 minuti di attesa per fare pochi metri tantissime le segnalazioni arrivate dagli automobilisti bloccati per più di un'ora lungo il tratto tra Romano Dezzelino e Pove del Grappa un chilometro di cantiere per il risanamento del manto stradale un chilometro nero per i tantissimi veicoli lungo la Valsugana ostaggio del traffico ormai da decenni tutto il territorio nessuno escluso da Bassano a Primolano da Romano Dezzelino a Rosà fino all'altra parte della vallata con Oliero Valstagna e Campolongo ed è dal comune di Solagna che una nostra telespettatrice ci racconta una situazione sempre più invivibile e per uscire per uscire da Solagna il paese in cui abito in questi giorni è diventato un grosso problema perché a causa della sfattatura della stradale ci sono sensi unici alternati e quindi il camion e le auto formano una fila infinita un serpentone di auto come racconta la signora Milvia che arriva fino alla farmacia fuori il paese traffico in tilt possibile anche nei prossimi giorni i lavori al manto stradale infatti continueranno almeno fino a martedì prossimo io mi domando come mai non riescono ad asfaltare di notte quando di solito c'è molto meno traffico 27.000 veicoli al giorno di cui un terzo mezzi pesanti incidenti stradali viabilità bloccata e disagi una strada valsogana che ormai da anni si posiziona al centro del dibattito politico una situazione che in vista dell'estate a suon di esodi e contro esodi si preannuncia sempre più complicata per solagna ne dico la verità durante l'estate e anche durante l'inverno quando c'erano ancora si poteva andare a sciare è sempre stato un problema l'estate perché appunto il traffico era intensissimo era difficile entrare e uscire in paese questa è la situazione sulla Val Sugana dalla nostra redazione di Bassano del Grappa invece questa mattina alle 4 si è verificato un incidente lungo l'A13 in direzione nord allo svincolo tra il casello di Padova Sud e Padova zona industriale un'automobile è uscita di strada ed è finita in un fossato che costeggia la carreggiata sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per recuperare l'autista del mezzo rimasto leggermente ferito che è stato poi trasportato in ospedale a Padova e un altro tragico incidente in A13 che era invece costato la vita a un cittadino cinese che era stato sceso dall'auto per controllare i danni riportati dal suo veicolo coinvolto in un tamponamento riporta alla luce quanto sia importante seguire in questi casi le regole per questo siamo in collegamento con Chiara Gaiani che si trova a Padova con la collaborazione tecnica di Federico Cibotto a terra linea Chiara Buongiorno da Padova ci troviamo all'interno del complesso del reparto mobile che ospita tra l'altro anche la polizia stradale ringraziamo il comandante della polizia stradale di Padova Gianfranco Martorano per essere con noi il tragico incidente sulla A13 con l'investimento di un cittadino cinese che era sceso dall'auto dopo un incidente ci pone delle domande ci sono delle regole auree da seguire per non mettere a rischio la propria vita che vorremmo chiedere proprio a lei di ricordare a tutti i nostri telespottatori comandante ci sono ovviamente delle regole di estrema prudenza ancora più quando ci si trova in ambito autostradale e soprattutto ci troviamo di notte queste regole di prudenza sono state ovviamente ricomprese dalle norme previste dal codice della strada che intanto pongono un assoluto divieto di circolare a piedi in ambito autostradale l'unica zona in autostrada dove si può stare a piedi sono le aree di servizio non assolutamente le aree di sosta e né tantomeno le corsie di emergenza queste altre aree servono per situazioni estreme in cui si verifica un'avaria del nostro veicolo piuttosto che un malore improvviso del conducente o dei trasportati e in tali occasioni anche lì è sempre molto pericoloso andare a terra ma se bisogna scendere dal veicolo la norma prevede di indossare il giubbino di alta visibilità certo perché ricordiamo insomma c'è buio tra l'altro in questo caso purtroppo c'è anche l'autista dell'auto che ha investito il cittadino cinese altre tre persone che era ubriaco ad aggravare la situazione ma c'era stato un piccolo tamponamento e comunque si sono messi in pericolo queste persone che sono scese dal veicolo si non entriamo assolutamente nel merito della dinamica delle cause e conseguenze dell'incidente che lei ha citato però ripeto assolutamente ci sono delle regole ben tassative che vanno rispettate con attenzione e poi ovvio che l'altro con causa importante è sempre il fattore velocità perché anche il conducente deve prevedere l'imprevisto che può essere anche un pedone in emergenza piedato e che magari non ha messo il giubbino di visibilità ecco regole che valgono anche all'interno di un circuito urbano all'interno di una città per esempio ricordiamo come si deve muovere una persona in bici durante le ore notturne o anche a piedi se la zona non è ben illuminata beh assolutamente intanto se parliamo di biciclette hanno l'obbligo di circolare con i fanali accesi con i dispositivi catarifrangenti di rispettare tutte le regole del codice della strada lì consiglierei sicuramente un abbigliamento più visibile quindi evitare abbigliamento scuro ma abbigliamento più visibile se non vogliamo mettere il famoso giubbino di alta visibilità che è obbligatorio fuori dai centri abitati altro consiglio molto importante anche con le biciclette non è obbligatorio ma l'uso del casco riduce notevolmente le conseguenze degli eventuali incidenti da qualche anno comandante è comandante della polizia stradaria di Padova promuove o bocci i padovani per strada? ma guardi assolutamente abbiamo un livello di infortunistica che è in media nazionale ma forse anche qualche punto in meno rispetto alla media nazionale abbiamo una struttura viaria abbastanza adeguata non possiamo lamentarci ripeto paragonandolo al resto del panorama nazionale l'unico dato che è leggermente superiore alla media è quello della guida in stato di ebrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti quindi noi concentriamo i nostri sforzi soprattutto su questi due settori quindi stupefacenti e alcol sono il nemico numero uno sicuramente della sicurezza stradale allora noi ringraziamo davvero Gianfranco Martorano comandante della polizia stradale di Padova e da Padova ringrazio Federico Cibotto per la collaborazione tecnica restituisco la linea allo studio naturalmente ringraziamo Chiara Gagliani e il suo ospite per questo intervento individuato è stato individuato sempre a Padova il responsabile delle scritte anarchiche sui muri della sede di Casa Pound e dell'Università di Padova vediamo due scritte la prima lo scorso 25 febbraio Alfredo Libero vergata con la vernice nera e la firma della cerchiata sui muri della sede del bivacco l'associazione di Casa Pound in riviera Paleocapa una scritta per chiedere la fine del regime di 41 bis per l'anarchico cospito la seconda in verde ad inizio maggio sui muri di una sede universitaria al portello con un insulto rivolto ad Aldo Moro nei giorni in cui ricorreva l'anniversario della morte per mano delle Brigate Rosse Moro sponsor della Renault ricordando l'immagine passata alla storia del ritrovamento del cadavere del presidente della DC nella porta bagagli di una Renault 4 il responsabile di queste scritte sarebbe un 25enne padovano vicino agli ambienti anarchici il giovane insieme ad un altro ragazzo sarebbe stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza cittadine riconosciuto dagli indumenti che indossava durante l'imbrattamento della sede di Casa Pound il 25enne sarebbe anche l'autore della scritta su Aldomoro la Digos su disposizione della procura ha eseguito la perquisizione a casa del ragazzo ritrovando i vestiti usati il materiale di propaganda anarchica sequestrati anche un pc e un telefonino il 25enne ora accusato di stigazione delinquere e imbrattamento voltiamo pagina prende forma la trasformazione di Veneto sviluppo l'ente regionale che supporta le aziende del territorio noi abbiamo intervistato il presidente della commissione bilancio della regione Veneto Luciano Sandonà c'è un nuovo setto societario che è stato presentato in questi giorni con una nuova legge di iniziativa della giunta regionale dove Veneto sviluppo diventerà praticamente una holding che incorporerà al suo interno le attività proprie di Veneto sviluppo tramite la SGR e la società Veneto Innovazione che è già una società controllata da parte di Veneto sviluppo Veneto sviluppo cambia e si rinnova in prima commissione è stato incardinato il progetto di legge 205 di iniziativa dell'esecutivo regionale presentato dall'assessore Roberto Marcato che sancisce il passaggio decisivo nella riorganizzazione e nel riordino delle funzioni della società Veneto sviluppo e Veneto Innovazione la regione è pronta a liquidare le quote delle banche private che si aggira intorno al 49% del capitale un'operazione dal valore di circa 40 milioni di euro Veneto Innovazione a conclusione del processo di riorganizzazione diventerà il soggetto deputato a gestire circa 600 milioni di euro tra risorse regionali e risorse FESR da destinare alle imprese tramite prestiti o garanzie convoglierà i fondi dell'Unione Europea destinati alle attività produttive quindi avrà numerose compiti e poi ci sarà un riassetto complesso dell'attività di Veneto Sviluppo più rispondente ai tempi e anche più rispondente alle esigenze del mercato nel frattempo poi in questa opera diciamo di rinnovamento usciranno dal capitale sociale le banche private che in questo momento fanno parte del capitale di Veneto Sviluppo e diventerà tutto diciamo di proprietà diretta della Regione Veneto Ed ora ci spostiamo a Schiavone in provincia di Vicenza dove questa mattina è stato inaugurato il più grande impianto di biometano d'Europa ci racconta tutto Vanessa Banzato a te la linea Vanessa Buongiorno buongiorno io mi trovo proprio qui all'interno di quello che tu stesso hai definito il più grande impianto europeo di biometano mi trovo assieme all'ingegner Stefano Svegliado amministratore delegato delle due società che hanno realizzato questa struttura ovvero Mottenergia ed EBS vogliamo intanto capire in che cosa consiste un impianto di biometano che cos'è un impianto di biometano si può ben intuire ma concretamente che cos'è è un impianto che utilizzando delle matrici di alimentazione molto semplici in questo caso che provengono dall'attività agricola in particolar modo dall'allevamento delle stalle quindi liquame letame polline in altre soluzioni si possono usare anche delle matrici vegetali messe dentro dei pentoloni grandi fanno una specie di polenta che in modo naturale per un processo batterico quindi senza il contributo della chimica producono del biogas questo biogas che contiene una percentuale di metano pari al 60% può essere purificato e portato a essere pari e uguale a quello che è il metano fossile quindi quello che ci arriva normalmente una volta dalla Russia adesso dall'Algeria e da altri paesi del mondo quindi noi riusciamo a produrre in pianura padana del metano come se avessimo dei giacimenti petroliferi per capire a cosa può servire nel senso quanta energia quanto metano si può produrre con questo impianto questo impianto produce la somma di due impianti 20 tonnellate di biometano liquido al giorno ed è derivato dall'alimentazione fornita da 120 stalle di questa zona nell'arco di 6 km abbiamo più di 15.000 vacche da latte che andiamo a recuperare giornalmente dalle loro stalle conferiamo all'interno dell'impianto i loro liquami l'etame delle loro polline il processo di gestione anaerobica produce il gas purificiamo il gas lo immettiamo su dei carri bombolai e lo portiamo alle stazioni di servizio quindi l'utilizzo del biometano che viene prodotto in questo impianto può essere utilizzato per l'autotrazione pesante può essere utilizzato per usi industriali come se fosse il gas che girando il rubinetto del fornello a casa vostra viene utilizzato normalmente ecco l'adesione degli allevatori soprattutto in questa zona nella zona di Schiavone è stata praticamente immediata è stata immediata sì però con alcune difficoltà perché all'inizio di questo progetto che nasce ancora nel 2008 e poi ha visto il primo germe concretizzato nel 2014 solo 10 allevatori si sono fidati di mettersi assieme il problema proprio era di fare squadra di mettere assieme una cosa che oggi sembra così sporca e un rifiuto come il liquame e l'etame in realtà era proprio una differenza di approccio culturale dimostrando che le cose si possono fare avendone dei vantaggi oggi siamo arrivati a 120 aziende socie quindi una grande soddisfazione e un grande risultato per questo territorio ecco nell'ambito sempre della tutela assoluta dell'ambiente assolutamente l'impianto nasce proprio per preservare la qualità della falda sappiamo tutti che noi diamo acqua a tutto il Veneto e quindi l'obbligo è quello di mantenere il più possibile pulita l'acqua senza andarla a contaminare con quello che può essere anche l'azoto contenuto nei liquami e nelle tami in questo modo al termine del processo della digestione anaerobica viene prodotta una sostanza completamente organica priva di chimica che viene restituita in campagna portando sostanza organica quindi la fertilizzazione e la concimazione che sono indispensabili per permettere la tutela del nostro suolo attivo questo impianto è già attivo e da quando attivo da quando funziona? diciamo nella sua consistenza finale quella che oggi abbiamo avuto il piacere di inaugurare condivendolo con tanti amici è da gennaio di quest'anno esisteva già dal 2014 ma era una forma molto più ridotta e molto più contenuta l'opportunità che ci è stata data dalla legione degli elevatori ci ha permesso di realizzare tutta questa cosa tra l'altro ce ne sono pochissimi in Italia di impianti del genere impianti che funzionano esclusivamente con liquami letami e polline sono molto ridotti proprio perché bisogna avere un territorio che fornisce le matrici adeguate nella quantità sufficiente per poterlo far produrre giornalmente e direi che non sono più di una decina ma sono esperienze oggi consolidate e questo lavoro questo intervento su questo territorio nella dimostrazione bene allora ringraziamo l'ingegnere Stefano Svegliado per averci spiegato concretamente come funziona questo impianto di biometano io ricedo la linea allo studio grazie grazie Vanessa Banzato al suo ospite in collegamento da Schiavoni in provincia di Vicenza con la collaborazione tecnica di Andrea Benetti noi diamo uno sguardo anche ai quotidiani online vedete la notizia che arriva dal gazzettino violenze ricatti ad una quattordicenne conosciuta su TikTok 24enne in manette a mestre oltre a questa notizia locale sulla destra ancora drammatiche novità per quello che riguarda la guerra in Ucraina ad Nipro colpita una clinica un morto e dei bambini tra i feriti noi adesso torniamo a Venezia come vi abbiamo raccontato in corso la visita della Presidente della Commissione Europea Fonterlein e per le ultime novità ci colleghiamo in diretta con Lorenzo Maier Lorenzo Ciao Filippo buongiorno a te e ai nostri telespettatori si è da poco concluso l'intervento della Commissaria Europea Ursula Fordenrein che sta vivendo queste ore in Laguna e il suo è stato un intervento molto importante qui all'Università Uav di Venezia per parlarne insieme abbiamo qui con noi una nostra ospite l'assessore Paola Mar che è anche assessore tra le varie del mondo universitario a cui vorrei chiedere grazie assessore cosa ne pensa dell'intervento della Commissaria la Commissaria ha fatto un intervento estremamente interessante per quanto riguarda chiaramente quelle che sono anche le prospettive della Commissione Europea ricordiamo che in questa giornata si è parlato anche di Bauhaus che è un progetto che lei New Bauhaus che è un progetto che la Presidente ha voluto fortemente e che coinvolge la città e insieme a Ca' Foscari e allo Juava l'Italia ha citato Palladio l'Italia è un esempio di bellezza di sostenibilità e ha raccomandato proprio di ritornare per combattere anche quello che è il cambiamento climatico e ha parlato ovviamente anche di ciò che è successo disgraziatamente in Emilia Romagna ma di ritornare a quello che era il principio di quelli che sono stati i padri dell'architettura e ha citato anche Venezia come un esempio noi sappiamo che in questa città i materiali sono sempre quelli di tradizione antica e quando si è provato negli anni 50 diciamo a inserire architettonicamente delle cose che non corrispondevano alla nostra tradizione c'è stato un aspetto di rigetto da parte degli edifici quindi Venezia è una città sostenibile è una città resiliente anche dal punto di vista architettonico come ricordava poi il sindaco Brugnaro ci si è rivolti oggi agli studenti che saranno la classe dirigente di Romani assolutamente e ovviamente anche in questa giornata è stato ricordato un altro progetto che è quello di Venezia Campus che prevede il sindaco prevede il raddoppio degli studenti e si sta lavorando anche con il ministro Bernini per quanto riguarda il finanziamento di nuove possibilità di fare studentati in città per quanto riguarda le università cittadine Venezia dal suo osservatorio è una città viva sicuramente sì Venezia ha 32.000 comprese l'Accademia e il Conservatorio 30.000 studenti che vengono un po' chiaramente principalmente dall'Italia ma anche da altre realtà mondiali è una città che ha 8.000 10.000 fuorisede su cui bisogna implementare proprio quello su cui punta il ministro cioè fare in modo che sia possibile per i ragazzi stare e studiare in città nella maniera migliore possibile però sicuramente è una città viva e l'università e le istituzioni culturali contribuiscono a renderla viva grazie assessore dunque da Venezia arriva un forte richiamo a una città viva che si presenta come ponte per l'Europa e per il mondo e se non hai domande dallo studio ti restituisco la linea grazie grazie Lorenzo Maier e all'assessore Paola Mar assessore all'università del comune di Venezia in collegamento in diretta dalla università EUAV dove è in visita la presidente della commissione europea Fonterleian noi ci fermiamo per un istante e torniamo tra poco ben trovati in diretta con Focus Tigino e apriamo ora la nostra pagina di politica innanzitutto andiamo a Belluno dove ci sono polemiche per una mozione in difesa della sanità pubblica bellunese che sarà discussa mercoledì prossimo in consiglio comunale un tema che però ha diviso i consiglieri vediamo perché ci risiamo dalle dichiarazioni di intenti tutte votate alla collaborazione all'ascolto la maggioranza Palazzo Rosso ha deciso di passare alle sciabolate è già accaduto e questo atteggiamento non segue certamente i principi dell'ascolteria del sindaco De Pellegrin per il suo gruppone che meno di un anno fa si è accasato in piazza Duomo vale di più piantare bandierine lo hanno denunciato questa mattina i consiglieri dei gruppi di opposizione che hanno sottoscritto una mozione in difesa della sanità pubblica bellunese non è una una mozione che dà delle colpe ma semplicemente impegna il sindaco a compiere determinati gesti dopo che appunto è stata redatta lo specchio di quella che è questa situazione una vicenda grottesca da qualsiasi parte la siguardia ferma il consigliere Nicolini a cui il primo cittadino nei mesi scorsi chiese di collaborare sul tema della sanità il risultato settimane di lavoro svolto anche con l'apporto di tecnici gettato alle ortiche alla chetichella i capigruppo di maggioranza preso visione della mozione ne hanno fatto sintesi hanno deciso di presentare un ordine del giorno sul tema della sanità che contrariamente alla mozione non impegna nessuno ma che già dà la misura di quanto accadrà mercoledì prossimo in consiglio comunale noi abbiamo lavorato in maniera importante sulla produzione di questo documento sul quale hanno messo le mani diversi soggetti che hanno competenze per farlo l'abbiamo proposto alla maggioranza ed è stato rifiutato per motivi politici una sanità a precipizio come l'opposizione titola la sua mozione è un problema che non riguarda solo il capoluogo ma tutta la provincia sfuma perciò l'impegno di dare un mandato unitario al sindaco e mercoledì in consiglio comunale si annunciano scintille e sorprese mi sarei aspettata che il sindaco come presidente della conferenza dei sindaci si fosse sentito di chiedere alla regione al presidente che tipo di mandato è stato dato al dottor Dalben perché in fondo questo è il tema fondamentale che cosa sarà nei prossimi anni della sanità bellunese la consiglio comunale di belluno a quello di treviso il 31 maggio è prevista la presentazione della nuova giunta il 6 giugno poi la prima seduta del consiglio comunale vediamo ci vorrà ancora qualche giorno per vedere svelata la nuova squadra del sindaco di treviso Mario Conte tutto rinviato dopo i ballottaggi anche se il sindaco lascia intendere che i nomi siano ormai decisi la giunta la presenteremo mercoledì e quindi ormai insomma i nomi sono abbastanza definiti ci sarà una discreta continuità rispetto al primo mandato perché se abbiamo raggiunto il 65% è frutto di un lavoro di squadra importante le sfide aperte e in corso meritano di essere portate avanti con continuità e quindi lavoreremo per dare continuità al lavoro della squadra del primo mandato in un post sui social il comitato cittadino dell'organizzazione prima i trevisiani replica con durezza i dubbi sull'opportunità di far entrare in giunta i suoi due rappresentanti Alberto Ciamini e Jennifer Gola il primo di fatto e la terza più votati della lista Conte però tira dritto non è che posso star lì a parlare con tutti i sottogruppi però io faccio loro i complimenti perché hanno ottenuto un ottimo risultato hanno due rappresentanti in consiglio comunale e quindi certamente è un risultato importante che io quantifico all'interno della quota Fratelli d'Italia la nuova amministrazione sta dunque per diventare operativa decisa anche la data della prima convocazione a Palazzo dei Trecento il primo consiglio comunale dovrebbe essere dovrebbe partire la convocazione oggi dovrebbe essere il 6 giugno dunque ancora qualche giorno per conoscere la nuova giunta di Treviso a Venezia invece dove la giunta è in carica da diversi anni il sindaco ha deciso di affidare tre nuove deleghe ad altrettanti consiglieri comunali Giorgia Pea Aldo Reato e Stefano Zecchi sono i tre nuovi consiglieri delegati nominati dal sindaco Luigi Brugnaro ovvero consiglieri comunali ai quali vanno deleghe specifiche su temi che interessano lo sviluppo futuro di Venezia una alla consigliera Giorgia Pea per in materia di teatri e cinema in tutta la città di Venezia un'altra ad Aldo Reato per la valorizzazione della gondola e un'altra al consigliere Stefano Zecchi per quanto riguarda la cultura il progetto futuro della città della città di Venezia razionalizzare il turismo e diffondere la cultura all'obiettivo di Zecchi presidente della fondazione di scienza della bellezza l'idea insomma è quella di aprire sempre più Venezia alle problematicità contemporanee Venezia è bellezza e quindi io posso semplicemente cercare di farla conoscere nelle sue realtà più segrete a Reato va la delega per la valorizzazione della gondola nel sistema di mobilità della città antica spero di essere utile alla città la gondola che è stato il primo mezzo di trasporto qui a Venezia soprattutto sul discorso del treghetto questa delega mi dà l'opportunità di valorizzare questa imbarcazione ancora di più infine a Giorgia Pea dal 2015 presidente della sesta commissione è stata conferita la delega città di Venezia cultura attività teatrali e cinema in particolare nella materia del teatro e del cinema che nella città di Venezia è sicuramente un fiore all'occhiello e l'impegno che mi assumerò sarà quello di essere anche d'ascolto nei confronti di tutte le associazioni e di tutta la cittadinanza Brugnaro ne ha dato comunicazione alla giunta e al consiglio comunale ringraziando i tre consiglieri per la disponibilità raggiungere nuovi obiettivi e dialogare meglio con i cittadini queste dunque le ultime novità in consiglio comunale a Venezia mentre a Marostica è stata presentata la nuova è pronta la nuova giunta il sindaco Matteo Mozzo ha nominato i suoi assessori Mozzo Bis è pronta la nuova giunta che affiancherà il sindaco di Marostica fino al 2028 quattro gli assessori riconfermati e una new entry la squadra insomma è pronta e sarà composta da Valentino Scomazzone vice sindaco con deleghe ai lavori pubblici verde sviluppo illuminazione pubblica e viabilità Ilenia Bianchina torna alla guida degli assessorati al turismo attività produttive eventi e siti monumentali altra riconferma quella di Renato Bertolin assessore con delega al sociale e alla Nagrafe continua a far parte del gruppo di governo anche Enzo Colosso assessore esterno con delega al bilancio tributi personale e patrimonio è una giunta comunale che insegna della continuità con però un nuovo innesto Martina Tugnazzo alla quale ho assegnato la delega ambiente agricoltura ed energia energia di fatto è una nuova delega proprio per andare incontro a quelle che saranno le esigenze del futuro guardando anche cosa ci siamo lasciati alle spalle sulla quale vogliamo potenziare abbiamo già dei progetti in mente il sindaco Matteo Mozzo mantiene le competenze su urbanistica frazioni sicurezza e cultura ma non è tutto il primo cittadino conferirà presto anche altri incarichi come nel primo mandato ho assegnato deleghe sia ai consiglieri che agli assessori e ho intenzione nei prossimi mesi concordando con i singoli di potenziare le varie deleghe proprio perché ho intenzione anche di mettere alla prova le persone in base al tempo e disponibilità che potranno darmi perché già da oggi vi voglio cominciare a lavorare per creare la nuova squadra che verrà dopo di me ci sono tantissimi progetti che vanno ben oltre il mandato amministrativo e voglio dare continuità e stabilità a questa città per l'interesse di tutti quanti i nostri cittadini allora torniamo a collegarci con Schiavon perché tra gli eventi di questa mattina in Veneto che stiamo seguendo c'è anche l'inaugurazione del più grande impianto di biometano d'Europa per noi ci sono sul posto Andrea Benetti e Vanessa Vanzato a te la linea Vanessa Sì Filippo Filippo buongiorno a te a tutte le persone che ci stanno seguendo torniamo a Schiavon e torniamo proprio all'interno di questo grande impianto e guarda caso mi trovo visto che si parla di tutela dell'ambiente a livello innovativo totalmente innovativo mi trovo assieme proprio al presidente nazionale di Lega Ambiente Stefano Ciafani che tra l'altro ci ha detto che questa non è una tappa così a caso giusto? Sì noi abbiamo iniziato venerdì scorso la nostra campagna sui cantieri della transizione ecologica una campagna nazionale che girerà per tutta Italia nei prossimi mesi la prima tappa c'è stata venerdì scorso a Catania in Sicilia dove si sta realizzando la più grande fabbrica di pannelli fotovoltaici d'Europa la seconda tappa è oggi qui a Schiavonna dove grazie a questo impianto un digestore anaerobico i reflui zootecnici diventano da problema perché ovviamente se smaltiti non correttamente possono inquinare diventano una grande opportunità anzi una duplice opportunità perché grazie ai reflui zootecnici e grazie a questa tecnologia si producirà biometano rinnovabile che permetterà di ridurre l'acquisto del gas fossile dall'estero e dall'altra parte si produce anche dell'ammendante agricole che permette di restituire sempre più carbonio ai suoli perché senza carbonio i suoli non sono fertili e quindi è una tecnologia assolutamente vincente sotto diversi punti di vista e non poteva che essere una tappa di questa nostra campagna nazionale che girerà nei prossimi mesi per raccontare che sulla transizione ecologica stiamo vincendo perché si stanno realizzando le opere e le infrastrutture che servono all'Italia per garantire la sua riconversione ecologica come chiedevamo già negli anni 80 tra l'altro unendo tecnologia ad altissimo livello industria e agricoltura e braccio umane e terra e ambiente e natura proprio beh sì è un mix davvero interessante è un'alleanza che vede insieme le imprese che realizzano questi impianti i produttori gli allevatori che garantiscono ovviamente l'arrivo del refluzotecnico che ovviamente senza il quale l'impianto non funzionerebbe e aggiungo anche insomma il sostegno da parte di un'associazione ambientalista come la nostra che su questi impianti si spende ormai da 15 anni quando nel 2008 Lega Ambiente lanciò il manifesto nazionale per la digestione anaerobica perché già allora già 15 anni fa dicevamo che questi impianti dovevano essere realizzati in tutto il territorio nazionale siamo in grande ritardo ma insomma grazie a iniziative come queste stiamo colmando quei ritardi nella parte più produttiva del paese il centro nord ma si stanno realizzando fortunatamente anche nel centro sud dell'Italia ma quali sono gli ostacoli maggiori che incontrate? beh questi sono impianti su cui si alimentano tante fake news si parla di impianti che inquinano si parla di impianti che esplodono si parla di impianti pericolosi questi sono impianti che permettono di fare una cosa che si faceva già negli anni 90 io da studente di ingegneria nel 94 vi si dà il primo digestione aerobica al depuratore di Roma Sud di Roma perché questa tecnologia è stata sempre utilizzata per trattare i fanghi di depurazione allora è una tecnologia consolidata è una tecnologia che è fondamentale perché permette di vincere sotto il punto di vista ambientale perché si riduce l'impatto ambientale dell'allevamento e permette di vincere anche sotto il punto di vista energetico perché si produce energia rinnovabile col biometano e non si consuma ci sono problemi autorizzativi perché sono sempre troppo lente le autorizzazioni delle regioni ci sono problemi di contestazione territoriale promosse grazie alla disinformazione questo insomma i cittadini va spiegato che cosa è perché devono capire e far venire i cittadini in questi luoghi credo che sia il modo migliore per togliere di via queste inesattezze queste fake news che i cittadini che spaventano i cittadini perché ovviamente i cittadini tecnicamente non sanno di che stiamo parlando quindi organizzare le gite delle scuole organizzare le gite dei cittadini che vivono in luoghi dove si devono fare impianti come questi credo che sia la cosa migliore piuttosto che tanti libri o tante parole spese magari in un sito in internet far venire i cittadini e gli amministratori legali perché c'è anche un tema di consenso degli eletti che ovviamente cavalcano sul territorio le proteste dei cittadini per acquisire maggiore consenso territoriale credo che tutti cittadini organizzati cittadini singoli amministratori locali le regioni che devono dare autorizzazioni più veloci e le associazioni ambientaliste non solo le cambiante tutte dovrebbero spingere per replicare quanto più possibile impianti di questo tipo in tutto il Veneto in tutto il nord Italia in tutto il paese ecco e il ruolo della politica è decisivo il ruolo della politica deve essere assolutamente proattivo deve facilitare il percorso di realizzazione di questi impianti le regioni devono autorizzare più velocemente questi impianti ci sono alcune regioni soprattutto nel centro sud che fanno una grande fatica questo è il paese che ha impiegato sei mesi a autorizzare il ricassificatore galleggiante di Piombina e Ravenna e mediamente ci impiega sei anni per autorizzare un impianto eolico questa è la differenza di tempistiche dobbiamo fare in modo che tutto avvenga nel più breve tempo possibile poi ci sono i comuni sul territorio che devono essere messi a conoscenza devono essere coinvolti nelle scelte da parte dei proponenti dei progetti e devono evitare di alimentare la cosiddetta sindrome NIMTO che in inglese in italiano vuol dire un acronimo inglese che vuol dire non il mio mandato l'impianto si faccia ma dopo dopo che finisco il mio mandato no bisogna farle adesso perché se lo usiamo la transizione ecologica e vinceremo entro 30 anni avremo perso noi sulla transizione ecologica dobbiamo vincere entro i prossimi 10 anni perché farlo in 30 vuol dire come non aver fatto nulla come dimostra purtroppo l'emergenza climatica e continua a casare pesantissimi danni economici e ammietere ancora tante vittime grazie grazie allora il presidente nazionale di Lega Ambiente Stefano Ciafani per questo suo intervento Filippo ricedo la linea allo studio grazie grazie a Vanessa Banzato e al suo ospite noi vediamo sempre dai giornali online quanto titola il Corriere della Sera è una notizia che ci porta a Verona Paluani fallisce la storica azienda del Pandoro di Verona 82 milioni di debiti l'azienda veronese di proprietà della famiglia Campedelli già proprietaria della squadra del Chievo nel 2022 aveva ceduto le attività produttive a Sperlari per un controvalore di 7 milioni e 600 mila euro e ora parliamo del regime di Lukashenko in Bielorussia perché la Cisla del Veneto è impegnata in un'attività di sensibilizzazione sul nostro territorio e anche di accoglienza di chi scappa da questo regime noi abbiamo raccolto a mestre alcune testimonianze di bielorussi che sono arrivati in Veneto le condizioni sono terribili è orribile lui è stato sei mesi in carcere da solo senza uscire 24 ore allora sei mesi senza la luce lo hanno torturato con il spam lui è Vitali è riuscito a fuggire dalla Bielorussia dove continuano gli orrori del regime Lukashenko orrori che ha vissuto in prima persona e che ha deciso di raccontare a pochi giorni dalla giornata del rifugiato politico il 21 maggio accanto alla CISL Venezia in prima linea nei progetti di accoglienza e sostegno per sensibilizzare l'opinione pubblica su quanto sta accadendo nel paese dell'est Europa abbiamo fatto un progetto importante l'anno scorso ospitando 33 persone al centro Morosini per tre settimane all'Ido di Venezia grazie anche all'impegno del comune di Venezia su questo raccogliendo i fondi di questi 22 erano bambini la stragrande maggioranza molto piccoli che avevano subito appunto queste pressioni psicologiche che sono al di fuori del paese uno dei progetti realizzati con Ulya Yukno rifugiata politica presidente dell'associazione Talakaki aiuta i bielorussi e rappresentante dell'ambasciata popolare in Italia la nostra rivoluzione pacifica è iniziata nel 2020 quando abbiamo avuto le elezioni che erano poi falsificate di Lukashenko che ha detto che ha vinto con 86% invece ha vinto un'altra persona Svetlana Tikhanovska che ora rappresenta le forze democratiche bielorusse io come rappresentante dell'ambasciata popolare invece faccio qui il lavoro per i rifugiati che scappano dal paese come me anche perché anch'io sono rifugiata politica e quando ho avuto i miei documenti di rifugiato ho costituito questa associazione bielorussa qui in Italia a Firenze che sta promuovendo la causa bielorussa un paese dimenticato dove ci sono più di 5.000 persone in carcere tantissime persone scappate tantissime persone oppressi ogni giorno da noi restano minimum 7-10 persone se pensiamo che questo dura già tre anni allora quasi metà del paese forse è stato già restato almeno una volta come tutta la mia famiglia anche noi ci fermiamo per un istante ci rivediamo tra poco ben trovati in diretta con Focus TG è morta 85 anni Anita Buosi una delle vittime di una bomber noi abbiamo ascoltato il ricordo di una delle sue nipoti a Motta di Livenze lei ha accettato questo fatto come se fosse una parte del destino della sua vita Anita Buosi affrontò in questo modo quanto le accadde il 2 novembre 2001 nel cimitero di Motta di Livenza mentre si stava prendendo cura delle tombe di alcuni frati del santuario quando le esplose in mano un cielo con all'interno chiodi e bulloni ferendola gravemente divenne così una delle vittime di una bomber queste le sue parole pronunciate allora ai nostri microfoni dal letto dell'ospedale ti prego mettiti una mano sulla coscienza vedi di non farlo più perché so che altre persone hanno sofferto per te non farlo più Daniela una dei cinque nipoti di Anita che le sono sempre stati accanto spiega come quell'evento abbia segnato per sempre la vita della zia è stato un momento molto forte per la zia le ha stravolto la vita perché insomma le menomazioni che ha dovuto affrontare la perdita di un occhio le dita le falangi non era più in grado di essere autonoma come prima perché la sua manualità è stata compromessa e anche la vista Anita Buosi non aveva più voluto parlare di una bomber archiviandolo nel suo passato lei ha accettato e ha sempre guardato il positivo di questo perché ha detto ormai quello che mi è capitato non posso più tornare come prima e in questo è stata brava perché ha accettato la situazione nuova con coraggio e l'ha affrontata con forza un momento doloroso che però non le ha mai impedito di continuare a dedicarsi a chi era in difficoltà è stato un suo motivo di vita proprio perché viveva da sola diceva se io ho qualcosa vorrei che anche gli altri avessero qualcosa donare agli altri è sempre stato lo scopo della sua vita è stata una persona che ha sempre aiutato i bisognosi lei faceva volontariato se aveva qualcosa per lei ne dava metà un altro l'ultima lettera scritta dal magistrato Paolo Borsellino il giorno dell'attentato in cui perse la vita il 19 luglio del 1992 fu inviata ad una studentessa padovana la studentessa si chiama Sara Caon oggi l'ha incontrata anzi l'ha incontra per noi tra poco siamo in collegamento diretto con lei Luisa Bertini a Lonigo dove si sta inaugurando il plesso la casa di Paola te la linea Luisa si buongiorno a voi buongiorno ai nostri telespettatori parliamo oggi di una storia siamo all'Onigo dove sta per essere inaugurata la casa di Paolo quindi dedicata a Paolo Borsellino ma in questa immensa storia che è quella dell'antimafia di Paolo Borsellino vi raccontiamo una storia particolare che arriva dal territorio padovano io sono in compagnia di Sara Caon che nel 1992 era una studentessa del liceo Cornaro e scrisse anche in maniera risentita Paolo Borsellino a proposito di un'assemblea a cui non era non era andato e ricevette l'ultima lettera scritta da Paolo Borsellino proprio indirizzata a lei ecco in realtà non l'ho ricevuta perché Paolo Borsellino purtroppo non potè finirla perché quel giorno venne ucciso ed è però significativo che l'ultima giornata della sua vita e lui sapeva che non ne avrebbe avute tante l'abbia utilizzata per scrivere a dei ragazzi io peraltro gli avevo scritto una lettera molto screanzata perché ero estremamente risentita dal fatto che lui non mi avesse non fosse venuto ovviamente perché che una persona impegnata possa non venire era ovvio ma che non avesse ritenuto opportuno mandarci due righe o farci un colpo di telefono per dirci che non sarebbe venuto in ogni caso siccome noi lo consideravamo un magistrato di grandissimo valore un interlocutore prezioso gli avevo mandato una lettera appunto dico screanzata e dir poco in cui però gli chiedevo gli mandavo le domande che gli avremmo fatto se fosse venuto e a cui avremmo gradito risposta nonostante l'impegno nonostante lui non avesse modo di stare neanche con i suoi figli lui a questa lettera risponde ci spiega come e perché è diventato giudice parla della sua colpevole indifferenza a fine 40 anni parla dell'ottimismo che ha per quanto riguarda i giovani perché li vede molto più attenti alle cose e comincia a rispondere comincia a rispondere a che cosa è la mafia che cosa è la super procura poi alla quarta domanda resta in bianco riceve una telefonata interrompe e il pomeriggio verrà ucciso e quindi non la finirà mai lei come l'ha ricevuta questa lettera in computer questa lettera è stata portata a Padova dal consigliere Caponnetto a cui l'aveva consegnato il figlio Manfredi il consigliere Caponnetto in realtà l'ha lesso a un altro liceo ma a quel punto venne purtroppo fuori il mio nome quindi lei oramai fa parte di questa storia indissolubilmente sì però io sono solo l'occasione che ha dato a Paolo Borsellino la possibilità di scrivere quello che io ritengo veramente un testamento morale ecco io ringrazio la nostra ospite restituisco a voi la linea allo studio grazie grazie Luisa Bertini in collegamento da Lonigui alla sua ospite per averci raccontato resi partecipi di questa storia ha avuto un ruolo fondamentale nella gestione dei malati di coronavirus parliamo del reparto di terapia semi-intensiva dell'azienda ospedaliera di Padova per cui sono stati ricavati nuovi spazi a ridosso della pneumologia 1500 pazienti durante l'anno 1100 solo nel periodo della pandemia ha giocato un ruolo chiave nei mesi difficili della lotta al covid-19 il reparto di terapia semi-intensiva dell'azienda ospedaliera di Padova unico in Italia con l'ospedale Sant'Orsola di Bologna a usare un'innovativa tecnica di circolazione extracorporea con la rimozione dell'anidride carbonica in eccesso la decapneizzazione extracorporea una sorta di dialisi del polmone qui sono aperti otto posti letto che hanno ricevuto la benedizione del vescovo emerito di Chioggia Adriano Tessarollo nuovi posti di terapia semi-intensiva che rappresentano il riconoscimento della funzione che questo particolare tipo di reparti ha tutto questo con un obiettivo innanzitutto quello di curare al meglio i malati e poi quello che c'era anche durante Covid di far risparmiare letti alle terapie intensive nella terapia semi-intensiva quanto più possibile si cerca di usare degli strumenti e di fare degli interventi poco invasivi qui noi abbiamo un problema che è sostenere la respirazione di una persona di un paziente in terapia intensiva per lo più lo si fa in maniera invasiva tubo endotracheale qui si cerca di farlo in maniera non invasiva con altri dispositivi proteggendo il paziente da altri rischi e da altre complicazioni si tratta di pazienti affetti da varie insufficienze respiratorie gravi patologie polmonari o extra polmonari come la sclerosi laterale amiotrofica causa la pandemia noi abbiamo siamo stati costretti a peregrinare all'interno dell'ospedale e soprattutto a stare quasi tre anni nella palazzina delle malattie infettive bene durante covid ma adesso una sistemazione che ci creava molti problemi logistici qui si lavora molto meglio siamo alla presenza di quel servizio di quel reparto del professor Vianello in particolare che sono stati dei punti di riferimento durante soprattutto le prime fasi della pandemia dove abbiamo voluto sottolineare come azienda ospedaliera universitaria di Padova e quindi attraverso questo servizio l'importanza delle semi intensive questo ci ha molto aiutato a come dire tra virgolette insomma ecco risparmiare le intensive per i casi che effettivamente non potevano essere curati in altro modo e aumenteranno nei prossimi mesi i controlli dell'Ulss 3 serenissima sui casi di West Nile nessun allarmismo ma nei casi più gravi la malattia può essere mortale per non farsi trovare impreparata l'azienda sanitaria veneziana annuncia un aumento della vigilanza sulle cosiddette arbovirosi il virus più noto come West Nile portato dalla zanzara nei casi più gravi può colpire il sistema neurologico e più raramente causare anche la morte del paziente cioè la disinfestazione si fa sempre annualmente però quest'anno valutiamo con maggior impegno la situazione e monitorizziamo l'andamento delle zanzare perché sono le zanzare che danno questa sindrome che è una sindrome in sostanza simile influenzale ma che con l'influenza non ha proprio nulla a che vedere nemmeno con i sindromi parinfluenzali però i sintomi sono banali sono molto simili per questo la West Nile passa spesso inosservata a parte soggetti particolari e fragili negli individui o persone che hanno deficienze immunitarie come può essere il bambino molto giovane o l'anziano soggetti con patologie molto particolari fragili chiamiamo persone fragili insomma sono più sensibili in questi casi c'è qualche episodio può verificarsi qualche episodio di effetto collaterale della febbre da West Nile che si verifica con disturbi neurologici e qualche rara volta purtroppo sono anche mortali rarissimamente però può essere anche mortali è ancora presto per dirlo ma i numeri non sono in aumento dal 2000 cioè da quando è stata rilevata qualche caso in più nel 2022 ma è anche difficile fare statistiche perché spesso i pazienti non sentono nemmeno la necessità di fare controlli o prelievi visto che inizialmente con la West Nile si può parlare di sintomi banali in attesa in attesa della partenza della diciannovesima tappa del Giro d'Italia Longarone Tre Cime di Lavaredo questa mattina il presidente della regione Veneto Luca Zaia il presidente della provincia e sindaco di Longarone Roberto Padrin insieme con il direttore del Giro Mauro Vegni hanno deposto una corona al cimitero monumentale di Fortogna di Longarone simbolo della tragedia del Vajont a poche ore dalla partenza della tappa alla cerimonia anche Vincenzo Nibali vincitore del Giro 2013 che vinse proprio la tappa delle Tre Cime che ieri sera ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Auronzo di Cadore e noi facciamo un passo indietro e vediamo come è andata a Oderso la diciottesima tappa del Giro d'Italia Noi abbiamo una progettualità che è assolutamente strutturata si va avanti con i grandi eventi non avremo solo Olimpiadi non ci saranno solo ogni anno questi tre eventi del Giro d'Italia avremo anche l'Under 23 avremo anche altre iniziative e ci stiamo portando avanti ma non posso anticipare altre candidature a livello internazionale ormai che ce l'ha detto qualcosa che sarà sport la carta dei grandi eventi continua a essere quella vincente per il Veneto prima regione turistica d'Italia per questo Luca Zaia vuole giocarsela fino in fondo dopo la tappa 17 con arrivo a Caorle la numero 18 parte da uno Derzo vestita di rosa oltre 15.000 le presenze destinazione Valdizoldo il primo tappone dolomitico aspettando la Longarone tre cime di Lavaredo luogo nel quale non si arrivava più da dieci anni l'ultima vittoria l'ha fatta Vincenzo Nibali è un po' il testimone a noi delle tre cime e penso che sia ancora un'occasione per valorizzare il Veneto per valorizzare le bellezze del Veneto passando per quel gran lungomare da Jesolo fino a Caorle ieri con l'arrivo a Caorle ma poi valorizzare la campagna Veneta l'entroterra Veneto per finire poi nell'area delle Dolomiti che è un'area che ci sta molto a cuore per il resto le emozioni sono quelle di sempre e questo lungo tutti i 161 chilometri del tracciato dove si alternano tifo e pronostici l'ultimo vincitore a Roma sarà Roglic sicuramente come la trova questo Oderzo? bella bella anche Caorle ieri magnifica tanta gente tanto spettacolo tanto sport chi vince? Caruso Caruso mai sapere ha espresso un bel pensiero ha detto che lui è qua per divertirsi per cui non si sa mai che la buona sorte lo possa far vincere sempre Colombia ah anzitutto sempre Colombia forza Colombia grazie Antena 3 siete meravigliosi eeeh viva Italia e a Bassano del Grappa invece è arrivata la fiaccola olimpica la fiaccola olimpica sul ponte vecchio la pioggia non ferma l'arrivo di Torch Run che giunge a Bassano grazie all'iniziativa assai insuperabile che vede coinvolti i ragazzi con disabilità la manifestazione patrocinata dalla polizia di stato vede coinvolti anche alcuni studenti bassanesi oltre gli agenti di polizia la torcia olimpica porta con sé il messaggio dell'inclusione obiettivo che ogni persona deve perseguire con determinazione per superare la sfida e conquistare l'obiettivo perché lo sport così come la città è per tutti un aggiornamento di cronaca ci arriva dal sito online del Gazzettino e ci porta a Maerne quindi nel veneziano trasformatore prende fuoco e scoppia l'incendio in fiamme un forno e il tetto dello stabilimento metallurgico Pometon naturalmente anche di queste come di altre notizie vi daremo aggiornamenti nel corso delle nostre prossime edizioni noi rimaniamo ci spostiamo di pochissimo a Venezia dove domenica torna la 47esima edizione della Voga Longa il via con il tradizionale colpo di cannoni alle 9 in punto dal bacino di San Marco quest'anno ci sarà anche un premio intitolato a Lino Toffolo 8 maggio 1975 parte la prima edizione della Voga Longa e sicuramente Venezia recupera quello che era il significato del vivere da Veneziani il proprio ambiente nel rispetto dello stesso quindi praticando l'ambiente per come la natura ci impone con un equilibrio vogando alla Veneziana e mettere da parte i motori sarebbe bello tornare a quell'8 maggio del 1975 così il delegato del sindaco Giovanni Giusto racconta l'inizio della Voga Longa che domenica in Canal Grande vivrà la sua 47esima edizione partenza con il classico colpo di cannone alle 9 in punto dal bacino di San Marco al via ci saranno 2000 imbarcazioni più di 7300 partecipanti dei quali però ben 5000 stranieri provenienti da 40 paesi anche questa è la fotografia di una città che cambia con sempre meno veneziani la Voga Longa continua a essere legata alla laguna alla tradizione della Voga e del Remo e quindi probabilmente mantenendo intatti quelli che sono stati i principi che l'hanno ispirata continua a essere apprezzata dei veneziani e non negli ultimi anni diciamo negli ultimi 10-15 anni si è visto un aumento delle persone che partecipano da fuori Venezia dall'estero dall'Italia che continuano a venire apprezzando sia la parte ludico-sportiva che la parte appunto legata al mantenimento delle tradizioni e ci sarà anche un premio dedicato al grandissimo Lino Toffolo lungo i 30 chilometri di percorso a Murano da completare in sei ore così lo ricordano i figli abbiamo fatto questo premio per premiare la barca più divertente simpatica stramba curiosa che passerà davanti alla nostra vova lunga con il ricordo di mio papà perché è impossibile non fare la vova lunga non continuare a fare la vova lunga per noi è una festa in famiglia come c'è Natale e compleanno vova lunga prima di salutarci un aggiornamento di politica nazionale che viene riportato dal sito online della Repubblica il Presidente della Repubblica Mattarella ha convocato i Presidenti della Camera e del Senato la Russa e Fontana vedete il titolo troppi emendamenti che stravolgono i decreti da inizio legislatura 27 provvedimenti d'urgenza approvati dal governo a fronte di sole 5 leggi ordinarie il Quirinale è preoccupato perché in Parlamento vengono rimpinzati di interventi che non riguardano la materia originale l'appello del Capo dello Stato ai Presidenti di Camera e di Senato con questo per ora è tutto Focus TG si conclude qui vi ricordo l'appuntamento con l'informazione di Rete Veneta questa sera a partire dalle 18.50 con il telegiornale di Bassano del Grappa a seguire il telegiornale di Vicenza arrivederci a